In sera domani Gianna Lecco, che partita sarà? Una partita dura, insidiosa, però dobbiamo cercare di farla diventare, non dico facile, perché una partita è sempre un derby lombardo dove troveremo delle difficoltà sugli spazi e dobbiamo sembrare a crearceli e a colpire quando è il momento giusto. Bisogna essere rapidi nella manovra e precisi. L'attacco ha ben impressionato nell'ultima partita casalinga, lo confermerai? Sì, ma sono tutti gli elementi che si sono mossi bene, avevamo avuto un 20 minuti un po' ancora legati, con un po' di freno a mano, però poi sono riusciti a liberarsi e col gol poi sono venute tutte le variazioni che ci hanno permesso di fare una bella vittoria, però bisogna continuare nel miglioramento, ci sono delle cose da sistemare e quindi ci abbiamo lavorato e bisogna cercare di continuare a giocare tutti i palloni come sanno i ragazzi, perché noi siamo una squadra che dobbiamo essere propositivi perché nel momento in cui dobbiamo gestire le partite non ne siamo capaci.